parliamo di profitti e di marginalità come detto e come scritto in un post di questi giorni il fatturato è importante certamente può essere un grandissimo numero ma se poi l'ultima riga il profitto è tanto così e neanche l'ultima riga la riga metà di un bilancio di un conto economico è piccolino poco conta tra l'altro ricordatevi apro e chiudo parentesi che quel numerino lì spesso volentieri il numero che viene utilizzato per misurare e valutare le vostre aziende quindi EBITDA uguale misurazione valore aziende argomento che su cui torneremo torniamo al profitto per ottenere un buon profitto è necessario ridurre gli sprechi 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 di tempo sprechi di attività non necessarie sprechi di costi qualsiasi tipo di attività che non aggiunge valore ai vostri prodotti o al vostro processo al vostro servizio non importa tutto ciò che i vostri clienti non sono disponibili a pagare non è da aggiungere e non è da fare dobbiamo tagliarli dobbiamo ridurli provate a pensarci anche il mal utilizzo delle nostre persone è un grandissimo spreco quindi ricordatevi che a parità di output quindi a parità di fatturato se siamo bravi a ridurre tutte queste cose alcune delle cose che ci siamo su cui ci siamo confrontati la vostra marginalità sarà certamente superiore ci torneremo su questo argomento buona giornata grazie a tutti